La struttura tecnica di cui si parlava poco fa con questa trendline ribassista che partiva dal 13 di agosto nel momento in cui è stata rotta con il definitivo slancio sopra i 26.000 punti abbiamo avuto questo bel rally che ci ha portato ben oltre i 27.500 punti per quanto riguarda il Fuzzimib. Qui in basso questo è l'indicatore RSI l'oscillatore di cui parlavo prima che vedete ha un valore di 81,12 ed è sugli stessi valori in cui era partita proprio la correzione di metà agosto quindi una correzione di entità più breve io me l'aspetto in direzione dei 27.000 punti. Entrare adesso chi è in posizione secondo me deve provare a lasciare correre i profitti soprattutto sui titoli migliori chi è fuori uno short potrebbe starci o in copertura se si è già molto esposti sul mercato azionario oppure con un'ottica speculativa di brevissimo in direzione proprio dei 27.000 punti che potrebbe essere il target ribassista.